Si chiama Thomas Martell, è un giovane ragazzo il quale viene chiamato il serial killer dei gatti, con suo infatti avrebbe messo diversi gatti dentro la forna a microonde di casa sua fino a ridurli alla morte. L'uomo, residente nel Renovis, negli Stati Uniti d'America, avrebbe fatto fuori in una maniera devastante, terribile e schifosa a ben quattro gatti già, ma il numero delle vittime potrebbe andare ad aumentare a dismisura. La ragazza ha denunciato il 22enne presentandosi alle forze dell'ordine, facendo sapere che il proprio ragazzo ha compiuto già, in tempi non sospetti, dei gatticidi in piena regola. Andando a mutilare, a negare, a schiacciare tre gatti, la ragazza ha scoperto i tre cadaveri, ma la vicenda ha tinto ancora più tristezza quando è venuto a sapere che i gatti erano di sua proprietà. Così la ragazza non ci ha visto più, ha deciso di ricorrere alle autorità competenti, andando a pregarsi proprio da loro e auspicando che riceva l'aiuto che richiede. Intanto già 75.000 dollari sono stati messi di cauzione per monitorare a livello elettronico l'uomo in questione, il quale non dovrà avere contatti di alcun tipo con animali domestici, e tutti i gatti sono stati già eliminati, non uccisi, ma tolti, dalla proprietà immobiliare del ragazzo in questione. Va bene? E pensate che questo ragazzo era abitato a fare tutto questo in quanto anche già da piccolo aveva l'abitudine mazzana di compiere la pratica in questione. Quindi non era un abitue, è stato sempre un serial killer. Grazie a tutti, ciao a tutti da andare a vedere.